Perché scegliere il terzo polo? Il terzo polo è la casa di tutti quei moderati ma radicali nelle idee che non si riconoscono più nella destra perché non è più la destra di Forza Italia, la destra liberale, europeista, moderata, ma ormai è diventata la destra dei sovranisti di Giorgia Melorni, di quelli che vogliono costruire quei muri che poi bloccano anche l'export, bloccano la crescita del nostro paese. E dall'altro lato c'è un PD che si è schiacciato su posizioni incomprensibili, un PD che ha lasciato l'agenda Draghi per afferrare e fare sua prima l'agenda Fratoianni e poi l'agenda Conte perché potete scommetterci che il giorno dopo il voto il PD tornerà ad amoreggiare con il Movimento 5 Stelle. Ecco, l'unica alternativa credibile per chi si sente liberale in questo paese, per chi si sente riformista, è scegliere il terzo polo. Con il governo Renzi sono stati creati, grazie al Jobs Act, un milione e duecentomila posti di lavoro, di cui la metà a tempo indeterminato. Noi crediamo nel lavoro, non crediamo nel reddito di cittadinanza, in quella cultura dell'assistenzialismo e dei sussidi. Noi crediamo che nelle aree più depresse del paese si debbano costruire le infrastrutture, si debba agire per creare lavoro attraverso la decontribuzione, attraverso la detassazione, non sprecare il denaro pubblico affinché finisca nelle tasche di furbetti, criminali, mafiosi e camorristi perché il reddito di cittadinanza, oltre ad andare giustamente ma solo in piccola parte a chi ne ha bisogno, finisce purtroppo molto spesso nelle tasche sbagliate. Uno Stato che investa quindi nel lavoro, ma che investa nella scuola, che investa nella formazione delle persone e ancora uno Stato garantista, uno Stato che sulla giustizia non accetti compromessi con il giustizialismo. Noi proponiamo una riforma della giustizia che vada a frenare lo strapotere delle correnti della magistratura. Per noi deve andare avanti chi è bravo. Noi vogliamo uno Stato che dica sì alle grandi opere, che dica sì all'alta velocità, che dica sì all'allargamento degli aeroporti, come per esempio l'aeroporto di Firenze, uno Stato che dica sì alle politiche per l'energia che guardano non solo all'oggi e alla contingenza, ma anche al futuro, quindi penso al nucleare pulito, penso all'estrazione del gas nel mare Adriatico. Noi crediamo che le imprese vadano accompagnate e sostenute in quello che creano, perché fare impresa significa anche svolgere un servizio pubblico, perché le imprese svolgono un grande servizio in quanto creano posti di lavoro. Per quanto riguarda le politiche energetiche sappiamo appunto che il caro Bollette sta stroncando famiglie, imprese e che si rischia davvero di far saltare il tessuto produttivo del paese. Per questo noi chiediamo che sia introdotto un tetto al prezzo del gas che sia però europeo e crediamo anche che si debba investire in politiche energetiche ad ampio raggio.